Nel comune di Mondolfo è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 16 marzo il nuovo progetto della pista ciclo pedonale che permetterà ai residenti di Ponterio e di via Beato Angelico di raggiungere in sicurezza il quartiere di Centocroci. Il percorso si estenderà per circa 500 metri e sarà corredato di un impianto di illuminazione a LED, un'altra importante opera pubblica dell'amministrazione comunale a favore della mobilità sostenibile e del rispetto per l'ambiente. Quindi prosegue l'azione dell'amministrazione comunale di creare una rete articolata di percorsi ciclo pedonali che collegano tutti i quartieri della città nella direzione della mobilità sostenibile e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il progetto consiste in un percorso che ha una larghezza di 2,5 metri, la lunghezza del tratto è di circa 500 metri e il costo totale del progetto con espropri progettazione e realizzazione dei lavori è di 200 mila Euro, in parte finanziati con risorse del bilancio comunale e in parte con risorse ottenute dal Ministero dell'Ambiente.